Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Aurora Ramazzotti senza filtri, lo monto io. I rapporti con il suo fidanzato Goffredo Cerza sono a dir poco bollenti, di che cosa si tratta? Aurora senza filtri.Giovane donna tanto seguita sui social network, Aurora Ramazzotti è ben voluta dal pubblico italiano Oltre al fatto di essere figlia d'arte, la ragazza è frequentemente al centro delle chiacchiere mediatiche per le sue trovate e, certamente, a causa della sua vita privata Senza dubbio, ciò che sta facendo impazzire tutti negli ultimi momenti è un contenuto postato sulle reti sociali dalla primogenita di Michelle Lunsich e Rederos Ramazzotti circa i suoi rapporti col fidanzato Di che cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme.Aurora Ramazzotti senza filtri Da sempre molto attiva nel mondo delle piattaforme e social, la simpatica Aurora Ramazzotti offre, spesso e volentieri, degli elementi per far parlare di sé il popolo del web Talvolta, però, la giovane è finita nell'occhio del ciclone per aver ammesso alcuni suoi pensieri, malgrado le conseguenze Tutti ricorderanno quando, scherzando con un suo amico, aveva fatto una battuta abbastanza infelice, dicendogli, sei brutto come Santiago All'epoca, la protagonista di Sara Laurora si era riferita al piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martin Anche se l'esagerazione da parte della prima figliola di Michelle Lunsich, si può esprimere il fatto che la Ramazzotti abbia agito, in ogni caso, senza filtri Dal tonde è successo di nuovo in questi minuti, stavolta, però, circa un argomento abbastanza bollente Cioè? Aurora Ramazzotti hot. Lo monto io, i rapporti di Aurora e Goffredo Cerza sono bollenti Oltre ad essere apprezzata nel mondo dello spettacolo, dove le sue esperienze sono sempre di più, la Ramazzotti ha trovato il suo posto sulle reti sociali, in cui è assolutamente una star Infatti, è costantemente seguita e regolarmente protagonista del cicalio mediatico, specialmente per la pubblicazione di contenuti abbastanza osess, ai limiti dell'art Difatti, ciò che ha postato in questi minuti è assolutamente hot Ramazzotti e Goffredo hot.Da ciò che si apprende, la figlia maggiore di Eros Ramazzotti e della Hunziker sta facendo rimanere con il fiato sospeso la maggior parte dei suoi fan perché ha postato una story su Instagram, nella quale si comprende che i suoi rapporti con il fidanzato Goffredo Cerza sono a dir poco bollenti Ebbene, quello che sta attirando l'attenzione è una battuta assolutamente hot sulla sua dolce metà Sotto una foto di Goffredo, qualcuno ha scherzato sul fatto che somigliasse ad un armadio dell'IKEA per la sua fisicità Cerza ha risposto al commento dicendo che l'armadio arriverebbe già montato a casa Poi è stato il turno di Auri che, maliziosamente, ha espresso Goffredo no no vengo io a montarlo. Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao